Non è andato tutto bene perché non avevamo l'accesso alla connessione internet stabile, non avevamo dei computer personali, non avevamo la possibilità di accedere al materiale didattico perché le librerie erano chiuse e si pretende che ancora noi abbiamo la stessa performance che in situazioni normali. Non è così. Noi abbiamo avuto un affetto forte sulla pandemia, siamo tra la parte della popolazione che ha avuto più un effetto anche proprio sulla parte psicologica perché abbiamo visto il nostro futuro fermarsi e in più non abbiamo avuto nessun sostegno né dalle istituzioni lombarde né dalle istituzioni statali. A Regione chiediamo un abbassamento dei criteri di accesso alle borse di studio. I CFU da conseguire entro agosto non possono essere 35, devono essere diminuiti di almeno 10 se non 12 CFU. Abbiamo voglia di tornare sui banchi di scuola, abbiamo voglia di tornare sui banchi universitari per studiare e per ricominciare a formarci. Non possiamo aspettare che le decisioni vengano prese tardi, bisogna agire adesso. Adesso come vedete gli studenti senza una possibilità economica lasceranno i libri a terra, lasceranno solo quello che è l'università fisica, quindi i banchi vuoti e partiranno via e non potranno più essere a Milano, non potranno più stare a Milano. Quindi adesso prendete e andate. Grazie.